Ciao Gentaglia, oggi parleremo di React, lo faremo utilizzando comunque Next, ma l'argomento comunque sarà completamente affine a quello che è React, perché parleremo di Optimistic Update. Che cosa è un Optimistic Update e soprattutto quale problema risolve? Più che spiegarlo, andiamo subito a vederlo. In questo caso appunto, vediamo prima il progetto, prima di iniziare a pasticciare con quello che è questa incredibile applicazione in Next, e ci troviamo di fronte a quello che è un classico form al cui Submit andiamo a creare, comunque aggiungere un item a una lista, insomma, la classica semi-to-do app, che abbiamo chiamato Feedback, questa volta per avere un pelo più originale. Quello che facciamo appunto è avere in questo caso una action che va a chiamare, che chiamiamo onSubmit, che appunto va a chiamare quella che è la funzione Update Feedback, che altro non fa appunto di attendere quella che è veramente una server action che abbiamo definito in questo file, in questa folder trattino actions, in cui altro non facciamo che semplicemente creare e risolvere una promise che impiega un secondo per essere risolta, quindi ci dà una falsa impressione di stare comunque interagendo con quella che è un API. In questo in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che se io qua andasse a scrivere, ad esempio iscriversi al canale, come suggerimento, questo è un suggerimento che vi do onestamente, io vado a premere Passa del Tempo, dopodiché appare quello che è il Feedback che viene inserito all'interno della nostra lista. Ecco, quello che va a risolvere un optimistic update, anzi quello che è di per sé un optimistic update, come ci suggerisce il nome, noi andiamo in anticipo ad andare a fare un update della UI in attesa che poi effettivamente una promise venga risolta, a.k.a. che effettivamente tutto diventi successful e noi abbiamo un merge tra il nostro update ottimistico e quello che realmente accade nella gestione dello state. Ma andiamo a vedere effettivamente questo obiettivo, come si raggiunga. Quello che appunto in questo momento sta succedendo è che noi dobbiamo per forza, non è che per forza dobbiamo aspettare che la promise venga risolta, diventi successful, con quello che otteniamo il risultato della promise che appunto ci ritorna quello che è un oggetto che noi abbiamo descritto nel type come feedback details, che altro non fa appunto che essere ritornato e aggiunto a quella che è uno stato di feedback che è composto da un array di feedback details. A questo punto noi come possiamo risolvere questo problema, che in realtà non è un problema, è solo appunto un'ottimizzazione di quella che è l'esperienza dell'utente. Noi quello che faremo sarà aggiungere tra gli import, in realtà è già qua, non sono dimenticato di toglierlo, ma a questo punto è già qua, abbiamo questo use optimistic che viene importato da React. E quello che ci permette di andare a fare use optimistic, quello di andare a fare un update ottimistico, diciamo noi siamo ottimisti e speriamo che ovviamente la promise diventi resolved, non ci sia nessun errore, quindi vogliamo in anticipo mostrare quello che accadrebbe se tutto andasse a buon fine. E questo è il risultato come si ottiene? Si ottiene andando a definire quello che è appunto il nostro use optimistic hook, che accetta appunto come primo parametro diciamo lo state che deve essere ottimizzato e come secondo parametro accetta quella che è una funzione che al suo interno ci dà l'accesso a quelli che sono due parametri, che noi in questa cosa chiameremo feedback e questa funzione va a descrivere come effettivamente verrà aggiornato il nostro nuovo state, come lo stato che noi abbiamo passato, che è lo stato reale rispetto allo stato ottimistico verranno mergiati in quello che è un unico state. Noi appunto quello che faremo sarà fare un return di quello che è il nostro array in cui avremo il feedback che ritorna quello che è il nostro nuovo state. Ora noi stiamo ottenendo un errore dall'inter perché ci sta dicendo che mentre questo essendo appunto lo stato precedente ha benissima idea di quale sia il suo valore perché ovviamente essendo questo un array di feedback details oggettivamente questo sarà un feedback details. Mentre per questo secondo parametro dobbiamo sempre andare a specificare il suo type perché non può farne un infer e ce lo marca come unknown. Quindi dobbiamo andare a dire che è di type feedback details. A questo punto non abbiamo nessun errore e possiamo andare a implementare quella che è la nostra ottimizzazione. Quello che ci ritorna questa tuple di useOptimistic ci ritorna come primo valore di questa tuple quello che è appunto il nostro optimistic feedback potremmo chiamarlo così quindi è il nostro stato ottimistico rispetto a quello che è effettivamente lo stato finale e poi quella che è una funzione che ci permette di aggiornare il nostro stato ottimistico ottimista chiamiamolo ecco il nostro stato ottimista che chiameremo ad optimistic feedback ora non ci rimane che andare a fare due operazioni la prima è quella di andare all'interno di quella che è la nostra funzione di submit che in realtà è la nostra action questa cosa potrebbe essere qualsiasi funzione che poi in realtà va a fare questo update e prima di andare a fare il reset del nostro form quello che ci prendiamo appunto è aggiungere un nuovo optimistic feedback quindi andiamo appunto a chiamare la funzione add optimistic feedback e gli passiamo quello che è l'oggetto del nostro feedback da notare in questo caso che a differenza di quello che è tendenzialmente un feedback quella che appunto il nostro oggetto descrive come type abbiamo questa opzione di loading questo perché? perché quando andremo a fare il secondo passaggio che ci serve per rendere tutto questo effettivamente funzionante quello che andremo a fare sarà invece di fare il render di quello che è il nostro array di feedback noi andremo a mostrare quelli che sono i nostri optimistic feedback a questo punto possiamo andare a salvare una volta salvato per sicurezza ricarichiamo la pagina torno a darvi come suggerimento di iscrivervi al canale premendo su submit noteremo che avremo subito mostrato quello che è l'aggiunta di questo feedback e sotto una voce con scritto e invece sto caricando perché in realtà diciamo dietro le quinte under the hood sotto il cappello quello che accade è che abbiamo appunto l'interazione con quella che è una nostra ipotetica API che quando va a risolvere e ad aggiungere veramente quello che è il feedback da notare che appunto il nostro create feedback quello che ritorna non contiene quello che è la chiave di loading all'interno di quello che è l'oggetto di response in questo modo riusciamo a noi appunto tra me e voi a dare un feedback di quello che in realtà sta succedendo perché io aggiungo e inizialmente ho proprio schermo Petruzzi che è un grande e qua sto caricando quando poi dopo la promise viene risolta io appunto ho il merge di questi due state ovviamente non è tutt'ora quel che luccica quando io appunto magari ho un tempo di attesa un periodo più lungo mettiamo 3 secondi in questo caso se io vado a fare tanti update ottimistici ovviamente è quello che io ho e che li sto aggiungendo dopodiché lo state viene mergeato ma c'è un conflitto tra quello che appunto io vado a mergeare e quello che è lo stato ottimistico appunto se io qua dicessi 1 poi mettessi 2 e poi mettessi 3 ecco che nel momento in cui vengono mergeati vedete io ho il duplicato di quello che è 1 in questo momento poi ho il duplicato di quello che è 2 poi ho il duplicato di quello che è 3 dopodiché il mio stato va a rompersi questo perché? perché sicuramente l'opzione migliore in questo caso è quello di andare ad avere un return funzionale che probabilmente ci aiuterebbe a non avere questo errore proviamo ad andare in questo punto a ritornare quello che è il nostro hold feedback e qua passiamo hold feedback andiamo a salvare vediamo se riusciamo a risolvere almeno temporaneamente quello che è questo problema quindi mettiamo 1 mettiamo 2 mettiamo 3 mettiamo 4 andiamo appunto a fare l'update del nostro state abbiamo comunque questo problema nel merge di questi due stati ma almeno alla fine riusciamo ad avere un merge dei due stati che tenga conto di quello che oggettivamente è lo stato ottimistico rispetto a quello che è lo stato finale come tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione poi si sa sempre a noi andarli a utilizzare uno nel modo corretto due nella situazione nel contesto migliore perché si performano nel miglior modo possibile quando andiamo a fare un update ottimistico diciamo che essendo più un qualcosa che serva a dare una visione sull'interfaccia di quello che accade in modo più veloce possibile senza andare appunto ad attendere o far apparire componenti dal nulla diciamo che va rischiato essendo comunque una speranza che tutto vada bene poi uno ovviamente fa in modo che tutto vada per il meglio però comunque essendo diciamo la speranza che tutto vada bene va utilizzato in contesti in cui comunque siamo di fronte a tempi di attesa che sono molto molto brevi comunque che andiamo a performare delle azioni molto semplici che vanno a inficiare più che su appunto cercare di coprire un caricamento in cui magari abbiamo altre opzioni stiamo andando appunto a mostrare degli elementi di interfaccia che vengono subiscono un render in anticipo rispetto a quella che è una risposta quindi almeno a mio avviso va utilizzato al momento per come strutturato in situazioni in cui l'update della UI è molto prevedibile e sta compiendo un'azione molto molto semplice come ad esempio magari io sto arrivando da un url che ha dei parametri arcodati qua sopra piuttosto che aspettare di avere effettivamente quelli che sono la risposta dal server che tutta la chiamata comunque vada a buon fine utilizzando quei parametri io piuttosto magari una tabella comunque di filtro e quindi mi prendo i parametri da qua sopra vado a illuminare quelli che sono gli elementi che sto filtrando magari vado a prefillare l'elemento di select che avrebbe il filtro lo vado a prefillare come update ottimistico e poi comunque aspetto la risposta della tabella di sotto ecco magari in questo caso anche per quanto sia veloce o non la tabella in questo caso posso andare a fare un update ottimistico perché di default comunque non c'è un altro modo in cui la persona può andare a rompere la UI come in questo caso quello secondo me è un ottimo scenario in cui utilizzare un update ottimistico in un caso come questo magari in cui magari abbiamo facciamo finta che stessimo aggiungendo dei prodotti a quello che è un e-commerce stessimo aggiungendo dei videocorsi a quello che è una piattaforma di videocorsi abbiamo bisogno di mostrare la UI ma stiamo facendo una chiamata complessa che magari richiede un secondo per sicurezza ne abbiamo un secondo di loading che ci permette di aspettare meglio la risposta magari in quel caso è un po' rischioso andare a fare un update ottimistico perché rischiamo di finire comunque in questo tipo di trappola in cui il nostro immergio di stati ottimisti rispetto a quello reale diventa abbastanza complicato e crea un po' di confusione sull'interfaccia e crea un po' di confusione grazie a tutti